Titolo di oggi, tu vali e soprattutto la tua pelle. Con Lift Gold andiamo a scoprire insieme come puoi ringiovanire la tua pelle. Negli ultimi 15 anni mi sono impegnata a creare dei pacchetti quotidiani, settimanali, per mantenere la nostra bellezza e soprattutto è una bella cura per la nostra pelle, in modo semplice, veloce e innovativo. 6 più 1, azioni per anti-aging, con i pacchetti meravigliosi. Ciao a tutti, sono dottoressa Amalia Karbalaj Morad, medico chirurgo estetico da oltre 30 anni. Come dico sempre, la tua salute e bellezza è la mia passione. Oggi ti illustro Lift Gold, il dispositivo con luce LED, con radiofrequenza e terapia fotodinamica e anti-rughi si adatta perfettamente a tutti i tipi della pelle, anche a tutte le forme del viso. Questa forma, diciamo, del codo dei delfini fa sì che questo dispositivo lavora dappertutto bene. Alla prima azione favorisce il 95% assorbimenti cosmetici, perché un massaggio tradizionale con le mani puoi assorbire solo il 30%, il resto rimane prodotto in superficie, può creare acne, punti neri, dei piccoli neoformazioni sotto pelle. Inoltre, grazie a altre luci, diciamo, possiamo attivare la rigenerazione cellulare, che purtroppo con l'avanzare dieta diventa la pelle raggrinzita, perde l'elasticità. Allora, Lift Gold e tre luci, con la luce rossa andiamo a favorire la circolazione sanguigna, che con la luce blu invece andiamo ad aumentare la sintesi collagene e proteine per dare elasticità alla pelle, con un effetto eccellente, diciamo, lifting. Luce verde soprattutto va bene per il contorno occhio, eliminando piccole rughe di zampe di gallina, riducendo le borse occhiaie e ridefinire l'ovale del viso. Bastano tre minuti e ogni minuto per ogni luce che il macchinario ti avverte. Poi, uno o due volte al giorno, a seconda necessità. Ora insieme, vediamo, nel pacco c'è questo macchinario, poi c'è questo per caricare, che questa luce blu, come abbiamo detto, è la luce fredda, può favorire sintesi di proteine collagene e, diciamo, dare compattezza alla pelle, toglie l'acidità della pelle, ridurre i pori dilatati, è notevolmente importante per pelle grassa e sensibile. Luce verde invece è un trattamento termico magnetico per migliorare l'ossigenazione della pelle, per favorire la microcircolazione. Ha anche un'azione linfatico per edema, come abbiamo detto, per equilibrio della pelle, ottimo anche per le occhiaie, le borse, come avevo spiegato. Invece, luce rossa, ha azione termica, che anche può favorire attività cellulare, favorire la circolazione sanguigna e la crescita di fibroblasti e collagene, avere un effetto eccellente nel levigare le rughe, dare la luminosità con anche un effetto antimacchia, perché distribuisce bene, uniformato, diciamo, la melanina. È ottimo per l'acne, per le cicatrici, per il doppio mento e sollevare mento. Avete visto che meraviglia abbiamo sotto le nostre mani e non fate altro che chiamateci per prevenire proprio l'invecchiamento, perché così io vi insegnerò come potete ringiovanire la pelle semplicemente a casa. Allora, mi raccomando, chiamateci per prendere un appuntamento per una consulenza gratuita, così vi insegnerò come potete migliorare la vostra pelle semplicemente a casa, davanti a tv, anche davanti al specchio, semplicemente all'ufficio dove volete, perché il dispositivo è piccolo, alta tecnologia, con tre luci diverse, queste tre luci diverse che agisce profondamente sulla nostra pelle. A presto, ciao a tutti! Grazie a tutti!